Un cordiale bentrovato ai nostri amici telespettatori, un nuovo appuntamento con l'informazione di TV City, in modo particolare con TV City Focus, il nostro format di approfondimento L'occhio lungo sulla città, ospitiamo quest'oggi in studio con noi l'assessore Laura Vitiello, Assessore tra le altre, con delega alla transizione ecologica, alla efficienza energetica, al trasporto sostenibile e al benessere animale. Bentrovato Assessore, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti e ringrazio TV City per avermi dato l'opportunità di intervenire in questa forma. Grazie Assessore, partiamo subito con la prima domanda. Ecco, tra le deleghe, quella che emerge per la novità della sua stessa istituzione è la delega alla transizione ecologica. Io vorrei partire proprio per sciogliere, per rompere il ghiaccio, proprio per dare comodità ai nostri amici telespettatori. Definiamo che cos'è questo nuovo assessorato della transizione ecologica, quali i progetti a riguardo sinora già messi in campo e quali in cantiere è da immaginare. Prego Assessore. Allora, la transizione ecologica è un obiettivo molto ambizioso che prevede una serie di azioni che mirano all'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, all'efficientamento degli edifici pubblici e privati, all'implementazione del verde pubblico sia in città che nei territori urbani con un triplice obiettivo, quello di arginare il rischio idrogeologico, di ridurre le emissioni da CO2 e di rendere il territorio urbano resiliente alle catastrofi atmosferiche prodotte dai mutamenti climatici. Per quanto riguarda la nostra amministrazione comunale, è proprio da poco che abbiamo imboccato la strada della transizione ecologica, in particolare con la delibera di giunta che ha approvato l'avvio del percorso di costituzione delle comunità energetiche rinnovabili. Che cosa sono queste comunità? Le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici senza scopo di lucro a cui possono volontariamente aderire sia privati cittadini che enti locali, che condomini, scuole, associazioni ambientaliste che si aggregano per produrre, utilizzare e condividere l'energia che proviene da fonti non inquinanti con notevoli benefici economici. Ci sono progetti in cantiere al momento riguardo questa specifica delega dell'assessorato? Riguardo questa specifica delega a breve uscirà sul sito, sarà pubblicato sul sito del comune l'avviso di manifestazioni interesse per aderire alle comunità energetiche, seguiranno c'è già stato un primo incontro con la cittadinanza per illustrare i benefici e i vantaggi che derivano dall'adesione a queste comunità energetiche, ne seguiranno altri e il comune sarà il primo attore sociale nella costituzione di queste comunità energetiche e metterà a disposizione elastrici, solari o tetti di edifici pubblici per cominciare a costituire le comunità energetiche sul nostro territorio. Ecco, Assessore, restiamo proprio in tema di ecosistema, in tema di ecologia e soprattutto di rinnovamento della risorsa energetica. In un momento storico particolare ed è particolarmente critico come quello che stiamo vivendo, soprattutto per i costi elevati del consumo energetico nelle sue diverse forme, quanto importante oggi è educare la cittadinanza ad una forma di sensibilizzazione energetica, come si può intervenire, c'è un'amministrazione in concreto, che cosa può fare e sul versante delle fonti rinnovabili la nostra amministrazione, quella della città di Torre del Greco, che cosa prevede a proposito. È importante ed è un obiettivo della nostra amministrazione contribuire alla formazione di una coscienza ecologica dei cittadini, educandoli sia ad evitare lo spreco dell'energia e sia ad evitare l'uso sconsiderato dell'energia elettrica. Questo può essere ottenuto attraverso una serie di incontri con la cittadinanza e con gli studenti nell'ambito delle scuole per far nascere una cultura di rispetto, di tutela dell'ambiente che parte dalle piccole azioni quotidiane, come per esempio controllare l'uso dei piccoli grandi elettrodomestici, sino ad risvegliare la coscienza e la consapevolezza, soprattutto delle nuove generazioni, all'utilizzo delle fonti da energia rinnovabile. In questo senso le comunità energetiche soddisfano anche un altro obiettivo, quello della lotta alla povertà energetica. Una comunità, quindi un comune, che fa partire sul proprio territorio le comunità energetiche è un importante alleato nella lotta alla povertà energetica, quindi sostiene e aiuta i cittadini negli sforzi per la riduzione dei costi in bolletta. Immaginate dei progetti nelle scuole, entrare nel mondo della scuola e pensate anche di coinvolgere le scuole di secondo grado, quelle che sono di solito la secondaria di secondo grado, proprio perché è considerata grande, a volte viene già considerata fuori dall'interesse educativo. Però si possono immaginare progetti anche del mondo scolastico? In precedenza, insieme all'assessore Sorrentino, abbiamo incontrato i dirigenti delle varie scuole, anche quelle di ordine secondario, e ci hanno manifestato la loro piena disponibilità, anzi ci hanno sollecitato ad intervenire nelle scuole proprio per risvegliare questa coscienza ecologica a partire dai ragazzi. Grazie Assessore, ancora argomento ecologico in materia invece di trasporto sostenibile, un'altra parola che oggi si sente molto e che sensibilizza molto l'opinione pubblica. Io la pregherei innanzitutto di fare una fotografia, una panoramica della città, qual è la foto e la città da questo punto di vista, che cos'è il trasporto sostenibile, quali progetti ci sono anche in questo settore? Allora, per quanto riguarda la fotografia attuale della nostra città, per quanto concerne la mobilità sostenibile, devo dire con onestà intellettuale che non è molto confortante, per cui anche qui dovrà partire un'opera di alfabetizzazione per introdurre il concetto di sostenibilità anche nel settore della mobilità. Al momento, a brevissimo, partirà un progetto di bike sharing sul territorio comunale di Torre del Greco e a breve implementeremo anche il numero delle infrastrutture per la ricarica delle autovetture elettriche. Queste azioni sono importanti perché sono prodromiche alla partecipazione del comune di Torre del Greco alla redazione del piano urbano di mobilità sostenibile da parte di città metropolitana di Napoli, che dovrebbe essere pubblicato nel mese di dicembre e che tra i grandi obiettivi che si prefigge c'è quello della riduzione dell'uso delle autovetture private sul territorio comunale e dell'incentivazione per i cittadini all'utilizzo a mezzi alternativi, anche biciclette, alla mobilità con l'autovettura privata. Cambiamo ora argomento, benessere animale. Quanti cani ci sono innanzitutto sul nostro territorio che purtroppo sono abbandonati o vivono il fenomeno del randagismo? Qual è anche in questo caso la fotografia? quanti ne sono ospitati nel canile comunale e in concreto un cittadino? Cosa può fare? Come puoi favorire l'attività, l'azione amministrativa? È possibile adottarli e se sì in che modo? Allora il sindaco è proprietario di circa 54 cani al momento che sono ospitati presso il canile Pineta Dog di Giuliano in Campania. Si tratta di cagnolini monitorati costantemente nelle loro condizioni di salute e tutti in stato di adottabilità. A tal proposito, per prevenire il randagismo e per evitare la triste pratica dell'accalappiamento, circa due giorni fa è stato pubblicato sull'albo operatorio del comune l'avviso di manifestazione interesse per il tutoraggio dei cani di quartiere. Che cosa significa? Che l'ASL individuerà dei cani che, diciamo, previa la valutazione di non pericolosità e previa microcippatura saranno inseriti in un quartiere, in un territorio e questa manifestazione di interesse, il cui avviso è già partito circa due giorni fa, dà modo alle associazioni ma anche al privato cittadino fino al 20 novembre di rendersi disponibile come tutor di questi cani di quartiere. E i cani di quartiere saranno presi dai 54 di Giuliano o altri animali che sono al momento ancora sul territorio? Ci sono anche altri cani che sono al momento sul territorio che potrebbero essere microcippati anziché accalappiati e, diciamo, potrebbero fungere come le prime figure di cani da quartiere. E invece per le colonie feline, perché abbiamo anche molti gatti... Sì, per le colonie feline è in fase di avanzamento il progetto per la realizzazione di un'oasi felina a ridosso dell'edificio La Salle. Quindi stiamo partendo anche su questo versante e a breve realizzeremo l'oasi felina. Grazie Assessore. Ancora un altro argomento, decoro ed arredo urbano. Molti cittadini, una delle lamentele che con maggiore frequenza rivolgono e quando parlano con noi, insomma, della redazione o quando abbiamo modo di ascoltarli sul territorio è l'assenza di quei piccoli contenitori di conferimento differenziato che tante altre realtà territoriali sono presenti sui marciapiedi. L'amministrazione prevede un reinserimento o una nuova allocazione dei bidoncini e se ci sono altri elementi di arredo urbano che si immagina di mettere in dotazione sulle strade per avvelire le strade della città. Certo. Allora, devo dire che accolgo e condivido la doglianza dei cittadini in ordine alla mancanza in alcune strade di piccoli contenitori, aggiungerei anche di contenitori per le deiezioni canine e intenzione di questa amministrazione previ sopra luoghi che stiamo peraltro già facendo sia sostituire e manutenere quelli rotti in alcune strade sia provvedere all'implementazione degli stessi nelle strade che ne sono sprovviste. Per quanto riguarda gli altri elementi di arredo e decoro urbano, sempre in questi giorni con i tecnici degli uffici comunali che ringrazio stiamo effettuando dei sopralluoghi e stiamo provvedendo alla manutenzione delle giostrine che sono rotte oppure all'implementazione delle giostrine nelle zone, nei parchetti aperti che non ci sono, l'implementazione di aiuole, di fioriere, di piccole zolle con delle piante aromatiche, quindi non appena finiremo i sopralluoghi partirà poi anche il programma per l'arredo e il decoro urbano. Un'ultima domanda che nasce dalla considerazione generale, che nasce anche dalla sua particolare attenzione, perché un grande interesse, un interesse così profuso in materia di sostenibilità ambientale, qual è la situazione della città e quali sono le previsioni a medio e lungo termine? Sì, la previsione a medio e lungo termine stiamo lavorando anche alla redazione del Piano Clima, che è un progetto anche questo molto ambizioso che richiede delle competenze particolari e che partirà prima con l'adesione al patto dei sindaci per l'energia e l'ambiente e nei due anni successivi si provvederà alla redazione di questo Piano per il Clima che raggiungerà anch'esso il triplice obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, di arginare il rischio idrogeologico e di rendere il territorio più resiliente al mutamento climatico. Ovviamente stiamo lavorando perché è un percorso molto lungo quello della redazione del Piano per il Clima che vedrà i suoi sviluppi e la sua attuazione nei prossimi anni, perché è proprio il percorso previsto dalla legge che prevede prima l'adesione al patto per i sindaci e poi la redazione per e propria di questo Piano Clima. Secondo lei qual è il ruolo attivo del cittadino in questa sorta di patto sociale e di lavoro in cooperazione con l'ente amministrativo? Cosa deve fare il cittadino e in che misura può collaborare? Il cittadino deve prendere consapevolezza che il tema ambientale è un tema di importanza e di grossa rilevanza soprattutto per le generazioni future e deve collaborare con l'amministrazione per seguire gli obiettivi di tutela dell'ambiente anche perché oggi l'innovazione tecnologica, la produzione può e deve andare a braccetto con la sostenibilità. Io ringrazio l'assessore Laura Vitiello, tanti i progetti in cantiere lo abbiamo ascoltato per parte di materie e di argomenti sulle quali oggi la società civile si affaccia con maggiore consapevolezza e quindi con una necessità più impellente e diversa dai tempi precedenti. Tanti i progetti, lo dicevamo prima, quindi avremo piacere di reinvitarla in studio e di constatare, di monitorare lo stato di avanzamento e la realizzazione degli stessi sul territorio. Io la ringrazio nel frattempo di aver accettato il nostro invito, di essere stata in nostra compagnia e auguro ai nostri telespettatori un buon proseguo in nostra compagnia. Appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di TV City Focus. Arrivederci e buon proseguo da Salvatore Perillo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.